buongiorno amici buongiorno amiche oggi abbiamo su questa volkswagen t cross un box della mmb il max 4 che è attualmente un vero e proprio portento tra i box per automobili a 128 gigabyte di memoria interna di cui liberi 108 5 megabyte 8 megabyte di ram di cui 5 occupati android 13 e processore snapdragon questo lo vediamo in questa schermata rapida presente quando lo accendete ma poi sono dati che vi vengono anche confermati nel momento in cui andiamo a vedere le caratteristiche con cpu z che non mente mai ci dice appunto che ha android 13 patch di 2023 ma in realtà c'è un aggiornamento che poi porta l'aggiornamento a luglio 24 qui ci dice che c'è un processore snapdragon con 8 gigabyte di ram e eccolo qua infatti il mitico snapdragon 665 quindi i dati dichiarati sono i dati reali abbiamo android 13 abbiamo snapdragon 665 in questo box che ha praticamente tutto perché ha il gps integrato a questo led e qui c'è la porta per la micro sd che io ho inserito e la sim che non ho inserito attualmente gli sto dando il segnale dati con il tethering dello smartphone quindi la wifi in questo momento è occupata dal tethering dello smartphone nel momento in cui andremo ad avviare android auto la wifi del box sarà occupata dal da android auto altra cosa che tutti mi chiedete che ora vi faccio vedere se funziona youtube movimento sì amici funziona youtube in movimento io ho messo una versione curata di youtube ma era preinstallata anche una versione normale di youtube vedete come veloce e come riproduce immediatamente un video youtube a prescindere che voi siate in movimento o siate fermi cosa che è impossibile con android auto nel quale appunto youtube non funziona in movimento con questo box e con altri box youtube funziona anche in movimento quindi detto questo premetto che io in questo momento sono connesso con uno smartphone android samsung con android 14 altre cose che voi mi chiedete sempre se ha il gps integrato ecco qua ha il gps integrato infatti in questo momento sta tranquillamente fixando e vedendo i satelliti quindi non sfrutta il gps dello smartphone ma sfrutta il gps del box allora altra cosa molto importante gli aggiornamenti ci sono sì ci sono guardate ho disponibile un aggiornamento di luglio 2024 quindi brava mmb che su questo box mette gli aggiornamenti OTA e questo aggiornamento addirittura è di luglio 2024 non lo faccio altrimenti si interrompe la connessione con il box come come è normale provisioni meteo domani a new york a new york domani sarà prevalentemente soleggiato con una massima di 28 gradi e una minima di 18 l'assistente vocale funziona perfettamente non datelo per scontato su certi box io ho avuto delle problematiche con lui no chiaramente poi potete riprodurre musica e video direttamente presenti nella sd del box li potete riprodurre qua sia in movimento sia appunto fermi chiaramente come in questo momento io sono ma fermi o movimento per questo box è la stessa è la stessa cosa guardiamo la schermata principale le app preinstallate sono parecchie le potete se volete togliere vedete ci tenete premuto poi lo mette poi e poi la cancellate se volete io ho installato questa youtube modificato ho installato questo store che vi consiglio con le app già curate e le potete installare tranquillamente ho installato c più z il resto era già presente nel box chiaramente voi potete telefonare dal box se avete inserito una sim se invece la sim non l'avete inserita entrate su android auto e telefonate attraverso android auto attraverso la sim presente nello smartphone ma questo credo che sia sia logico oggi non voglio fare un video troppo lungo perché vi vi dico subito che lui è il box fantastico da prendere costa 200 euro su amazon a volte va in forte sconto tenetelo d'occhio perché lui quando scende è da prendere è veloce è performante ha veramente tutto adesso andiamo su android auto se cade la linea poi mi riconnetto perché come vi dicevo in questo momento lui è connesso alla wifi del tethering quindi cliccando questo si avvierà android auto e potrebbe potrei perdere la connessione ma in caso continuo dopo si è collegato ad android auto e attualmente quindi ha perso sta sfruttando il il wifi e il bluetooth dello smartphone per utilizzare android auto che si sente bene su tutte le casse della dell'automobile vediamo se funziona l'assistente vocale che a volte su questi box da dei problemi previsioni meteo domani a tokyo 37 gradi a tokyo come più o meno l'italia anche qualcosa di meno assistente vocale funziona la visualizzazione come risoluzione è corretta è tutto tutto ok tornate poi vedete velocemente ad al box e se volete tornare su internet vi dovete ricollegare alla wifi che correttamente si è si è spenta in quanto è stata utilizzata attualmente dal dal tethering quindi basterà qui riaccendere il wifi e collegarvi o al tethering dello smartphone o meglio ancora utilizzare una sim presente nel nel vano qui del box mettete una bella sim dati qua e avete il box perfetto lui con una sim inserita col gps il presente già qui dentro è il re dei box è veloce agli aggiornamenti a un bel launcher a una bella grafica è scattante funziona youtube in movimento funziona netflix in movimento potete installare qualsiasi applicazione lui è il box che vi consiglio attualmente presente su amazon italia vi metterò in descrizione chiaramente il link all'acquisto saluto pasqui che ci ospita nel suo canale e vi consiglio anche di entrare nel canale telegram che vi metterò in descrizione dove possiamo parlare insieme di questi box e anche di altri di altri box che che sono presenti in commercio vi ricordo che per utilizzare questo box la vostra automobile deve essere predisposta a carplay via cavo se la vostra automobile non ha carplay via cavo questo box e gli altri box non funzionano ricordatevelo perché altrimenti poi avete una brutta sorpresa direi che è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao